Grazie a tutti delettato, portando gli artisti a conoscenza delle biblioteche che ci sono. Quindi è stato anche il mio impegno far comoscere questa antologia bellissima con il primo premio di Milena Perrarca, Presidente internazionale dell'Associazione Magna Crescia Latina New York e anche Presidente della regione campana della Villa e Vice Presidente del Messico. Quindi faremo altre cose molto importanti perché lei vuole aprire anche il museo a Pozzuoli della sua famiglia perché la mamma di Milena Perrarca è stata una grande artista che ha scoperto grandi talenti come Sofriore, Canacciolo ed altri artisti. Io sono orgogliosa perché Milena era un po' diffidente all'inizio, ma adesso ci ha messo anche lei l'anima perché Bruno è vero, cioè si è scontata da donne, ma noi l'abbiamo perché un uomo che merita, non presa anche la moglie, è Roberta Benizza e siamo felici e orgogliosi di far parte di questa associazione di Milena. Io ci spenderò ancora di più con Dale perché Dale fa tanti sacrifici rivedendo dall'Argelia. Quindi come ricompensarla? Anche con le prove tangibili parlando agli amici e quindi ci impegneremo a fare altre cose molto importanti. Ora, cosa devo dire? L'Igala Pisca l'anno scorso ha vinto il premio, il premio dell'Arte Grafiche con il suo premio, Antonici Artisti, la pagina è un'emozione. E poi devo dire anche di Chiara Caponi che è una grande artista che mi ha fatto conoscere insieme a Liliana Manetti, che è molto brava, poi devo ringraziare anche il Soltanieo, il Cercusco, per un bel gruppetto che non sono potute venire, porto anche i loro saluti. Perché venire a Milano non è facile, però loro lavorano in silenzio e collaborano con la DILA in varie parti d'Italia. Anche di Angela di Buon, che si sarà con noi, Presidente dell'Associazione La Cruce Letteraria, a Dall'Altepinia, in cui collaboro, quindi con Pasquale Franceschetti. Premo questo Lusin perché è molto importante, dobbiamo collaborare insieme. Io parlerò con loro e mi impegnerò. Ora mi vorrei per soffermare a parlare magari l'emozione, perché abbiamo fatto un grande passo avanti. Avere Ceroli con noi, Adriana Ceroli, non è stato facile. Ma noi ringrazio a Bruno che ci sa fare con gli amici. Abbiamo questa grande, anche quest'anno, questa grande antologia. E devo ringraziare lui per il premio, la vera amicizia, perché l'ho dedicato a due grandi personaggi del cinema, location manager, Sergiane Luigi e Raffaele Walter Poli. Sono dei grandi artisti che hanno lavorato con un massimo di treissimi. Quindi ringrazio a loro.